Dunque i cinque comandamenti. Allora, uno per me principale potrebbe essere, diciamo sulle agende di tutti i potenti della terra, potrebbe essere quello di proteggere e difendere i soggetti più deboli della società, i bambini, gli anziani, gli animali, i poveri che non sanno dove poter trovare le risorse per sopravvivere. Due, il mondo, la parte di mondo ricca deve pensare per forza, pena il disastro, alla parte di mondo più povera. Tre, attenzione l'ambiente signori, altrimenti questo mondo non potrà avere le risorse per sempre. Quattro, l'educazione civica di ognuno passa attraverso sì la scuola assolutamente, la preparazione, ma allora anche a strumenti come la cultura, che non è soltanto una parola paludata, noiosa, piena di ragnatele, ma è uno dei pochi strumenti per potersi difendere e crescere nella vita. E chi non ce l'ha dimostra di non avere questo strumento. Quindi, crescita civica, quindi cultura. Cinque, la Roma. Cinque comandamenti. Cinque comandamenti.